Buonasera Londra, bere aiuta a dimagrire, principalmente perché noi a volte confondiamo lo stimolo della fame con quello della sete e quindi riusciamo a sazzarci meglio se siamo ben idratati. Tuttavia il video di oggi non vuole parlarvi di questo, ma vuole parlarvi della correlazione che c'è fra l'idratazione e la nascita delle cellule grasse. Scopriamo perché. Fino a qualche anno fa si pensava che il numero dei nostri adipociti, ovvero delle cellule grasse, fosse stabilito fino intorno agli 8-10 anni, perché il tessuto adiposo fino a quell'età si può moltiplicare e quindi aumentare il numero delle cellule per il fenomeno chiamato iperplasia e una volta che siamo diventati adulti le cellule adipose si possono solo gonfiare, diventare più ipertrofiche, ma non aumentare di numero. In realtà poi si è scoperto che da bambini prevale l'iperplasia sull'ipertrofia, negli adulti invece prevale l'ipertrofia sull'iperplasia, ma l'aumento delle cellule adipose può benissimo avvenire anche da grandi. Fondamentalmente il meccanismo dell'iperplasia adipocitaria non è perché Dio ci vuole male, ma perché gli adipociti più sono piccolini e meno producono citochine pro-infiammatorie, più diventano ipertrofici e più sono problematici per il nostro organismo. L'iperplasia così è un meccanismo di difesa per il nostro corpo. Quando stiamo ingrassando, piuttosto che aumentarne l'ipertrofia, aumenta il numero tenendo sempre delle dimensioni più accettabili le cellule grasse. Bene, e che cosa c'entra tutto questo con l'idratazione? Fino all'altro ieri sapevamo che il cortisolo, non soltanto lui, ma aveva una funzione centrale sull'iperplasia delle cellule adipose. Oggi al cortisolo si è aggiunto il suo cugino, perché in realtà, non se ne parla mai, c'è un altro ormone prodotto sempre dalla corticale del surrene che è molto simile al cortisolo. Parliamo dell'aldosterone. Normalmente questo ormone viene citato quando abbiamo i potenzione. Quando il volume ematico si riduce e il nostro corpo deve espellere con le urine il potassio e trattenere il sodio. Se vi hanno tagliato un braccio e vi state dissanguando, l'organismo spara a mille l'aldosterone. Ma comunque, in generale, una persona che non si idrata correttamente tende a trattenere di più il sodio e con questo anche la ritenzione. Oggi è dimostrata l'azione dell'aldosterone sugli adipociti soltanto su modelli murini, ovvero sui topi. Tuttavia, probabilmente la stessa cosa avviene anche nell'uomo. Se visto che il cortisolo ha un'azione simile all'aldosterone, anche alti livelli di cortisolo tendono a trattenere il sodio e i liquidi e probabilmente l'aldosterone fa la stessa cosa che fa il cortisolo sugli adipociti. Ne aumenta di numero e causa insulino resistenza. Essere correttamente idratati così non ha soltanto una funzione di andare a placare la fame, ma può anche aiutarci a livello adipocitario. Anche perché noi sappiamo che una buona errorazione, una buona idratazione, fa prevalere negli adipociti i recettori beta su quelli alfa. I recettori beta sono quelli sensibili alla lipolisi e all'azione delle catecolamine. Quindi quando fate sport, quando vi affaticate con l'attività fisica e aumenta l'adrenalina e noradrenalina, andate a intaccare le cellule adipose. Se invece prevalgono gli adipociti alfa come nel grasso ostinato, questi recettori sono insensibili all'azione della lipolisi e quindi le zone dove facciamo fatica a dimagrire è perché prevalgono questo tipo di recettori su quelli beta. Una buona idratazione, un buon microcircolo sembrerebbe anche qui favorire i recettori beta, quelli positivi per il demagrimento, rispetto a quelli alfa. Arrivati a questo punto cerchiamo di capire come idratarci correttamente. La prima regola che riguarda l'idratazione è prendere l'acqua dal cibo. Basare la nostra alimentazione su alimenti prevalentemente vegetali, in primis frutta e verdura ma anche legumi e cereali integrali. Le linee guida ci dicono di bere un litro e mezzo, due litri per la popolazione sedentaria, più o meno un rapporto di un litro d'acqua ogni mille calorie. Per gli sportivi questo rapporto può essere anche aumentato soprattutto nei periodi più caldi ed arrivare anche a un litro e mezzo d'acqua ogni mille calorie. Esiste anche un'altra formuletta che dice di moltiplicare il nostro peso corporeo per gli sportivi per 35-40 e quella è l'acqua che dovremmo bere. Se siamo ben idratati è importante anche il rapporto con il sodio. Fino a qualche anno fa si diceva di assumere un grammo di sale ogni litro d'acqua. Oggi in realtà questo rapporto è stato aumentato a favore del sodio. Non si parla più di sale, quindi di cloruro di sodio, ma semplicemente di sodio e si dice di assumere un grammo di sodio ogni 0,8 litri d'acqua. Se questa raccomandazione farà preoccupare molti perché il sale è uno dei fattori di rischio per la nostra salute non dovremmo mai assumerne più di 4-5 grammi al giorno, ci stiamo sempre riferendo alla popolazione comune sedentaria. Lo sportivo che beve tanto ha bisogno di mantenere un corretto rapporto tra acqua e sodio. Ecco io spero con questo video di avervi fatto capire ancora di più perché è importante essere ben idratati per una buona composizione corporea. In realtà la pratica sul campo questa cosa l'aveva già vista perché nel bodybuilding natural, a differenza di quello d'Oped, gli atleti bevono tantissimo e quindi non c'è più quella pratica sotto gara di disidratarsi e prendere diuretici, ma anzi si tende a bere tantissima acqua proprio perché più ne beviamo e più il corpo raggiunge la corretta idratazione e si libera dell'acqua in eccesso. Ricordatevi del test delle urine che è gratuito, potete paragonare le vostre urine ai colori che vedete qua per capire se siete correttamente idratati oppure no. Se volete maggiori informazioni come al solito c'è Project Nutrition, il nostro libro che raccoglie tutto quello che diciamo in questi video, ma li approfondisce soprattutto con degli sbocchi pratici da mettere sul campo. Io vi ringrazio come al solito di essere arrivati fino qua e noi ci vediamo con un prossimo video. A presto!